Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovi video di news su Call of Duty Black Ops 3. Come sempre, prima di iniziare vi ricordo di lasciare un bel mi piace per supportare il video e il mio canale YouTube e se siete nuovi correte subito ad iscrivervi. Oggi torniamo a parlare dei rumor più interessanti per quanto riguarda il DLC 4 di Call of Duty Black Ops 3, che come sappiamo sarà presentato durante il Code XP che si svolgerà a Los Angeles dal 2 al 4 di settembre. Oggi vi volevo portare tre indiscrizioni veramente molto importanti per quanto riguarda questo quarto contenuto aggiuntivo che dovrebbe essere a quanto pare l'ultimo DLC della saga Zombies di Call of Duty Black Ops 3. Andiamo a vedere uno per uno questi tre importanti rumor. Partiamo dal primo perché deriva tutto da un post pubblicato da un utente sul sito reddit.com che a quanto pare ha trovato dei codici sorgenti all'interno del gioco che vanno a rivelare queste informazioni che vi sto per dire. La prima riguarda la Wonder Weapons e beh vi ricordate la Poticon Servant che era un'arma, una Wonder Weapon che potevamo utilizzare ad esempio sulla mappa Shadow of Evil, tornerà all'interno del DLC 4 sempre modalità Zombies ma con una novità, si potrà potenziare quindi ci sarà una versione potenziata della Poticon Servant. Non è finita qui perché sempre da Shadow of Evil nel quarto DLC potremmo trovare il Mark Wa. Per chi non lo conoscesse era quel mostro alieno che appariva ogni tot round durante la modalità Zombies. Il primo se non ricordo male appariva al settimo o l'ottavo round e poi cominciava a spawnare ogni 3-4 round. Veramente molto rognoso perché è un mostro alieno con 3 teste e dovevamo ogni volta uccidere ogni testa. Ogni testa se ben vi ricordate ci dava 500 punti ed ogni volta che andavamo a far fuori una delle teste appariva una sorta di volatile veramente molto rognoso che ci sputava una sorta di acido. E quindi sembrerebbe che nel quarto DLC di Call of Duty Zombies tornerà anche il Mark Wa. E quindi staremo a vedere perché un possibile ritorno del Mark Wa nell'ultima mappa Zombies di Black Ops 3 potrebbe aprire degli orizzonti a qualche altro boss del passato. Sempre degli altri DLC. Per concludere sempre in questi codici sorgenti del titolo sembrerebbe essere stata trovata la scritta DLC 4 Child Takeo. Questo potrebbe stare a significare che potremmo trovare o una versione giovane di Takeo come era successo in passato con Richtofen. Infatti se ben vi ricordate c'erano due versioni, la versione vecchia e la versione giovane se così possiamo dire. E anche in questo quarto DLC ci potrebbe essere una versione giovane di Takeo. Oppure una versione bambino. Non sarebbe la prima volta perché abbiamo visto in passato un altro bambino o meglio bambina sempre all'interno della modalità Zombies e sto parlando di Samantha. Quindi questi sono i tre rumor più importanti che stanno girando intorno alla modalità Zombies DLC 4 di Call of Duty Black Ops 3. Attesa a quanto pare per la metà di settembre. Non appena ci sarà l'annuncio tornerò con un bel video dedicato con tutte le informazioni ufficiali. O intanto qui sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate di queste tre novità. La poti conservante che si potrà aggiornare. Takeo giovane o Takeo bambino. E il ritorno del Marqua. Ci vediamo con tanti nuovi video. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale. Mettete un bel mi piace sul mio video. E ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video. Sempre qui. Sempre sul mio canale.